Massimiliano, volevi dire qualche cosa prima che poi passi ad altro? Sì, volevo fare riferimento alla sorpresa che è stata fatta a Bea. Io ovviamente non giudico un ragazzo di 15 anni che difende la mamma, ma credo che ci sia stato un inquinamento sul gioco dire non fidarti di qualcuno e Beatrice non ha perso occasione per chiedere chi fosse questo qualcuno di cui non si dovesse fidare in casa. E' uscito fuori il mio nome, non so questo quanto sia da regolamento. Ha detto che non sei un uomo e ha ragione. A parte questo non mi interessa Bea che continui a ribadire questa cosa detta da un ragazzo di 15 anni che difende e far battute e poi stasera subito si schiera. È bipolare Massimiliano Varrese. Ha detto che sono bipolare, comunque vi vorrei dire che dovreste tenere anche conto delle offese che fa la signora, non solo delle mie. Comunque Massimiliano ti assicuro che di offese nei confronti della signora ne fai parecchie. Ma non in questo modo, non in questo modo Alfonso. Comunque volevo dire che ovviamente non... C'è un ragazzo difende la madre e io non ho messo bocca. Poi ho riflettuto sul fatto che la signora Luzzi abbia chiesto chi fosse la persona di cui non fidarsi in casa e credo questo sia un inquinamento del gioco, forse anche contro il regolamento, chiedere il nome e ripeterlo più volte, commentarlo prima di entrare. Allora, accolgo la tua richiesta, certamente. Allora, accolgo la tua richiesta, certamente.